Questa mattina voglio fare un video diverso dal solito, seguo un canale youtube che vi consiglio che si chiama ricette risate in pochi minuti, saluto Mirella, ciao Mirella, simpaticissima con le sue ricette e stamattina ho visto un suo video che consigliava dei cioccolatini, adesso li voglio assaggiare con voi, si chiamano ciocco caffè, eccoli qua, L'ho acquistato all'Eurospin per pochi euro, ciocco caffè, adesso assaggiamo, sentiamo com'è, apro la scatola, ciocco caffè dolciando, eccolo qua, sono 15, 15 cioccolatini, scatto uno, eccolo qua, scatto uno, sono simili ai famosi, quelli ripiani al caffè, eh, i poker coffee, giusto per fare pubblicità, allora, eccolo qua, Sono buoni ma all'interno non è che c'è molto caffè, quindi, assaggio un altro, faccio solo per voi, eh, e per te Mirella che mi stai guardando, Allora, abbiamo un altro, eccolo qua, Mmm, uguale all'altro, si, Gioco caffè, seguite il canale, ricetta e risate, in pochi minuti, ciao a tutti, Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.